La notizia dell'arresto di un latitante accusato di omicidio in Abruzzo, proprio sui monti della nostra regione, aveva cercato riparo, magari anche qualche complicità braccato dai carabinieri, oggi è stato fermato a Castel di Sangro. Questa storia ce la racconta dalla nostra redazione social il collega Luca Pompei. Buon pomeriggio Luca. Buon pomeriggio Carmine, si aveva trovato lavoro come cuoco in un hotel di Roccaraso, Paolo Carbone, il 57enne fortemente indiziato per l'omicidio di Sergio Romeo, un 48enne morto l'8 giugno scorso dopo due giorni di agonia all'ospedale di Milazzo per le ferite riportate. Inizialmente Romeo aveva parlato di una caduta dalla bici, ma dalle indagini dei carabinieri è emerso che sarebbe stato proprio Paolo Carbone all'uscita di un bar, questo bar di Venetico nel Messinese, a colpirlo al culmine di una lite con una mazza da baseball. Dopodiché Paolo Carbone aveva fatto perdere le sue tracce, aveva trovato rifugio proprio in Abruzzo, in un hotel a Roccaraso dove svolgeva lavoro come cuoco. È stato rintracciato ed arrestato dai carabinieri di Castellisangro ed ora è rinchiuso in carcere e sta attendendo gli interrogatori di garanzia. L'aggressione avvenne il 6 giugno scorso, la morte di Romeo avvenne due giorni dopo nell'ospedale di Milazzo. Come dicevi giustamente tu Carmine, in questa fase i carabinieri stanno cercando di comprendere chi ha in qualche modo aiutato Paolo Carbone a nascondersi e si indaga anche in un certo ambiente dell'Alto Sangro dove ci sarebbero diversi personaggi comunque legati in passato alla criminalità organizzata anche siciliana, sorvegliati speciali o quant'altro. Insomma si indaga anche in quell'ambiente lì. Ovviamente sono al momento solo supposizioni, le indagini vanno avanti. Comunque in questo senso la storia si è conclusa qui. Paolo Carbone è stato assicurato alla giustizia. A te Carmine.